Oggi ragazzi dovremo giocare solamente con le nuove armi del nuovo aggiornamento segreto di Fortnite Ci saranno tantissime armi assurde, mi raccomando, lascia un pollicione in su e ovviamente supportami nello shop con il codice LOLOBOLLO Non perdiamo tempo però perché le nuove armi come il caccia e l'attacco aereo ci stanno aspettando in partita Andiamo Con l'aiuto del nostro Contins oggi cercheremo di raggruppare tutte queste nuove armi riaggiunte nel nuovo aggiornamento e usarle tutta la partita Sarà difficile lo so ragazzi ma grazie al vostro pollicione in su sono sicuro che riusciremo a farcela Mi raccomando arriviamo almeno a 5000 mi piace per il ritorno di queste armi epiche Sono state aggiunte proprio oggi quindi iniziamo la ricerca regà Speriamo di trovarle il prima possibile molto sinceramente Inizio a sfondare tutto qua sperando di trovarne almeno una dai ti prego Ti prego gioco fammene trovare una non ti chiedo tanto Allora ho aperto tipo 10 casse ma non c'è traccia ancora delle nuove armi non ne ho trovata nemmeno mezza Tu hai trovato per caso qualcosa di nuovo? Praticamente no lo sto facendo solo tante di quelle kill che tu non hai neanche idea Oh mamma mia Adesso sto cercando non ho trovato ancora nulla però ti farò sapere vai tranquillo Guarda un po' che cosa è uscita da questa cassa signori e signori Oh no aspetta non il fucile a poppa Non il fucile a poppa l'attacco aereo signori ce l'abbiamo È tornato su fortnite l'attacco aereo fatemi sapere se ve lo ricordavate Ma signori dobbiamo prenderlo ufficialmente nel nostro inventario Devo riuscire ad avere tutte quante le nuove armi in un solo inventario Sarà difficilissimo regà ma noi ci riusciremo Andiamo alla ricerca di un'altra arma ragazzi Questa volta andremo alla ricerca ovviamente del fucile da caccia e della pistola flint Che sono tornati proprio oggi regà e saranno disponibili fino al 17 Per chi se lo stesse chiedendo perché vedo due casse Esatto ma cosa è questa cosa Vai apri quella sotto io apro quella sopra Oh oddio si il caccia Fucile da caccia signori siamo già due armi non ci credo Ok ragazzi mamma mia è proprio come me lo ricordavo Il fucile da caccia è tornato su fortnite e lo abbiamo trovato addirittura a viola Quell'arma è mia grazie Andiamo avanti e proseguiamo con questo game regà che parte con il piede giusto In questo momento regà ci manca solamente la pistola Non possiamo non trovarla regà è l'ultima arma che ci manca per avere tutte le armi in un solo video Provate un'altra cosa degli aerei la prendo anche io Oddio ci stavo credendo Comunque ne ho quattro di attacchi aerei Se vuoi facciamo due per uno almeno ne abbiamo a disposizione tutti e due Dobbiamo assolutamente trovare quella pistola Deve uscire da qualche cassa adesso ti prego pistola esci No non ci credo Guarda là lo vieni da me che so dove trovarla Ok arrivo subito arrivo subito dove dove si trova Fammi vedere qua Sono sicuro che qua Non mi sembra non mi sembra una pistola Oh mio dio nemico nemico davanti a me Il fermo è immobile Boom c'è tirato 189 con il caccia Pusciamoli pusciamoli ragazzi Tu sei un problema Provo il nuovo attacco aereo Conti provo l'attacco aereo Vediamo che fa Oddio ragazzi Arrivano ragazzi Il dato Il dato Oddio Ma che è il di fatto Lancialo anche tu Lancialo anche tu Lancialo qui L'ho lanciato L'ho lanciato Oddio ragazzi Oddio ma è un disastro questa cosa Ma è fichissimo Ma guardateli Stanno in super difficoltà Regà Pusciamoli Pusciamoli No vabbè Ma è bellissima regà sta nuova arma Corri 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 Pollo Abbiamo distrutto tutto il benzinaio Praticamente Sì vabbè Ma è stato per una missione scientifica Dobbiamo pusciarli assolutamente Sono qua Eccoli Vengo da te Lollo Eccoli qua davanti a noi Ok Stanno scappando Da me Lollo Sto ricaricando il caccia Aspetta 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 vai Curati E uno è bianco Mi ha distrutto proprio Arrivo arrivo Ok ci sono No 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 Non ho materiali Scappo 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 Perché non ho materiali Non ci credo Non possiamo morire adesso Dobbiamo farli fuori No Cavolo c'ero così vicino Prima è incredibile Dov'è Lollo usa questo Usa questo Lollo Oh Eh non ce la faccio No Cappa Ah non ci credo Signore e signori Non ci voglio credere Ma nel secondo tentativo Ho trovato tutte e tre le armi Alla prima partita Al primo tentativo Non ci voglio credere davvero regà E adesso dovremmo sfruttarle Quindi farei una cosa del genere Poserei la metraglietta E utilizziamo il rift Per volare Cerchiamo di riprendere la metraglietta Che ovviamente non siamo riusciti a riprendere Andiamocene in safe E proviamo queste tre armi Messe insieme Riusciremo a combinare qualcosa di decente Secondo me la risposta è no regà Sicuramente non riusciremo a fare nulla Ma noi ci proveremo Mi raccomando Il supporto adesso è fondamentale Abbiamo tutte le nuove armi Che abbiamo a disposizione Ce le abbiamo veramente tutte regà Non possiamo sbagliare nulla Non possiamo fallire Ve lo giuro Ok a quanto pare abbiamo trovato anche la cassa Che in realtà non è una cassa Perché è indistruttibile regà Ma sono dentro una cassa Vabbè sentite Lasciamo stare questa cassa Che a quanto pare è bella baggata E direi di andare via Ragazzi c'è un nemico Lo vedete È proprio lì giù Potrei provare il colpo dell'anno Con il caccia Ma non è il mio caso Regà Non sono così forte da farlo Quindi proseguiamo a lutare Un attimino questa zona E poi proviamo ad attaccarli tutti insieme Regà Sarà un po' difficile Questa missione Però ce la faremo Abbiamo trovato addirittura il caccia blu Quindi ancora meglio regà Adesso quello che ci manca Però è un bel nemico Ragazzi c'è un nemico in macchina Pusciamolo Pusciamolo Proviamoci Magari scende dalla macchina regà Eccolo è sceso Mangiate la bacca Ti prego Boom Kill con il caccia Ragazzi Ma non ci voglio credere Ce l'abbiamo fatta A fare una kill Con queste nuove armi E qui signori Si gode un pochino E ammettetelo pure voi Un pochino si gode A questa kill Certo sono stato un po' in fama A sparargli da dietro Però ragazzi Questo è fortnite Il karma sarebbe Che qualcuno adesso Uccidesse a me Però va bene così Riusciremo a sopravvivere Senza morire ragazzi Ci proveremo Ci proveremo Ci sono spari qui davanti a me Quindi proverei a pusharli Addirittura con la flint Così lo usiamo tutte regà Veramente Proviamo ad utilizzarle tutte Oddio l'ho preso Oddio regà Ma l'ho preso Gli ho fatto 36 Oddio ti prego Dimmi che l'uccido No L'ha ucciso questo a destra Ma non ci credo Ma c'è un nemico qua Che sparavamo Allo stesso nemico Ma che cosa sta vedendo Regà Proviamoci Proviamoci Pushiamolo Pushiamolo No purtroppo Questo è più forte di noi Regà Proviamo a buttare giù tutto Vediamo se funzionerà Ok no Non ha funzionato Non siamo riusciti Regà A fargli danno È qui davanti a noi Potrebbe funzionare Potrebbe funzionare Non ci credo È qua È qui È qui Regà È qui Se apre è morto Se apre è morto Ok Tato Oh ma è morto Mamma mia Signori Il nuovo pro player Di Fortnite È ufficialmente arrivato Mamma mia Che strage Che abbiamo fatto Con queste nuove armi Adesso però bisogna fuggire Adesso però bisogna fuggire Ma per fortuna Abbiamo una super jump Che ci salverà la partita Letteralmente Regà Wow Abbiamo già due kill E una l'abbiamo fatta Addirittura con la nuova arma E l'altra utilizzando La nuova arma Perché comunque Lo abbiamo fatto spaventare Un bel po' Con quell'attacco aereo E ha funzionato alla grande Adesso l'obiettivo finale Sarebbe davvero Una vittoria reale Incredibile Regà Però non penso sia Fattibile Ve lo giuro Proviamoci Proviamoci con il caccia Regà Proviamoci con il caccia Ok Dov'è 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 È qui È qui Ci sto provando Regà vi giuro È difficilissimo È difficilissimo Non ce la farò mai Ok È lì il nemico Proviamoci 80 Bello 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 Adesso è sopra però Adesso è sopra però E adesso sono cavoletti nostri Regà Ok Sta scendendo di qua Potremmo Potremmo ucciderlo Da un momento all'altro Proviamo a pusharlo Dentro la safe Regà No No Regà No Ma per quanto non lo abbiamo ucciso Non ci credo Comunque l'obiettivo della challenge In realtà è completato Perché era quello di giocare Con tutte le nuove armi Nella stessa partita Lo abbiamo fatto Abbiamo fatto anche qualche kill interessanti Fatemi sapere i vostri pareri Su queste nuove armi aggiunte Su Fortnite Che in realtà sono vecchie Però vabbè Detto questo Non vi resta che andare Nel negozio oggetti di Fortnite Cliccare in basso a destra Inserire il codice Lollopollo Supporta un creatore Ovviamente regalo Lollopollo Mi raccomando Fatelo tutti Cliccare Accetta Accetta E shoppare tutte le vostre skin Preferite Ciao ciao A domani con un nuovissimo video Una nuovissima live A domani con un nuovissimo video A domani con un nuovissimo video A domani con un nuovissimo video